Musica Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test della croce di Maddox, che è uno dei vari test che ci consensono di rilevare le forie, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Fondamentalmente questo test è stato ideato dallo stesso Maddox e l'elemento che ci consente di andare a rompere la visione binoculare non è altro che il cilindro di Maddox, un cilindro di elevato potere, circa 500 diottrie, che per convenzione viene posto sull'occhio destro. Il target in questo caso è rappresentato da una mira puntiforme posta al centro di una croce graduata che consente di quantificare rapidamente e in maniera immediata la foria e di stabilirne ovviamente la tipologia. Durante praticamente l'esecuzione del test abbiamo detto che il cilindro viene posto sull'occhio destro e esso va a creare praticamente una striscia a partire da una mira puntiforme e questa striscia avrà una direzione ortogonale ovviamente all'asse del cilindro quindi se io voglio valutare praticamente le forie orizzontali devo porre l'asse del cilindro orizzontale perché formerà una striscia verticale la quale si sposterà sul ramo orizzontale della croce al contrario se voglio valutare le forie verticali porrò l'asse del cilindro verticalmente mentre l'occhio destro percepisce una striscia grazie al cilindro l'occhio sinistro invece continua a percepire in maniera naturale la mira puntiforme dunque l'esaminato ci dovrà praticamente riferire rispetto alla mira puntiforme dove si va a posizionare la striscia rispetto poi ovviamente all'asse della croce il ramo della croce dove andiamo praticamente a rilevare la foria se questa striscia va a posizionarsi a destra della mira puntiforme allora avremo una esoforia quindi se va a posizionarsi sul ramo destro e l'esaminato sarà invitato a riferirci quale numero va a toccare la striscia e quindi avremo una valutazione abbastanza rapida della foria anche quantitativamente al contrario se la striscia si posiziona sul lato sinistro della croce andiamo praticamente ad avere un'exoforia se invece voglio valutare quelle verticali e la striscia orizzontale si posiziona sopra quindi sul ramo superiore avrò un'ipo se si posiziona su quello inferiore avrò un'iperforia la particolarità della croce di Mandox è quella di indicarci anche la presenza di cicloforie se ci sono e quindi in quei casi praticamente se io ho l'asse del cilindro che è nella direzione 0,180 quindi perfettamente orizzontale e dovrebbe creare la percezione della striscia perfettamente ortogonale all'asse ciò non avviene praticamente sarà leggermente spostato rispetto alla normale all'asse e quindi formerà un angolo con questa la striscia nell'esaminato con cicloforia poi da lì andremo a stabilire secondo dell'angolo dove si forma rispetto alla normale all'asse se ci sarà una exocicloforia oppure un'incicloforia poi ovviamente come per gli altri test bisogna andare a valutare qualitativamente la foria e quindi andare a chiedere all'esaminato se la striscia si sposta in maniera continua e progressiva oppure è completamente stabile oppure si sposta all'interno di un intervallo e quindi in questo modo otteniamo diverse informazioni a livello qualitativo utilissime a capirne di più sullo stato forico dell'esaminato e quindi sulle caratteristiche del suo sistema visivo il test si può fare sia da lontano che da vicino da vicino diciamo classicamente esiste il test dell'ala di Maddox in cui l'elemento di dissociazione non è il cilindro ma è un setto separatore oggi invece con una versione più moderna abbiamo il Torrington modificato che consente una valutazione rapida e molto comoda più ambientale sicuramente sia a distanza che nello spazio prossimale dunque questo è tutto per il test della croce di Maddox se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video bella Opto Style Wake up! Wake up!